A questa iniziativa A questa iniziativa si inserisce in attività di marketing della Moncaro e vuole realizzare un conudio tra arte di vino e creatività, passione, arte, originalità, per cui crediamo che anche il rapporto con dei professionisti e degli artisti possano sicuramente arricchire questo spazio che è meta anche di molti visitatori, sia in occasione delle iniziative pubbliche di cantine aperte, sia anche nelle altre iniziative che Moncaro sviluppa nel corso del tempo, soprattutto con i propri importatori e operatori stranieri.